Namaste! In questa classe a grande richiesta vi guido in una breve pratica che andrà a sciogliere e ad aprire l'energia che passa in un meridiano altrettanto sollecitato nella stagione autunnale. Nel mio precedente video abbiamo visto come far fluire l'energia nel meridiano dei polmoni, che abbiamo detto essere responsabili del collegamento con il prana universale, con l'energia universale, quindi più apriamo il meridiano del polmone più riusciamo a respirare bene e a collegarci con il prana all'esterno, il prana universale. Un altro meridiano molto sollecitato nella stagione autunnale è quello dell'intestino grasso. Il meridiano dell'intestino grasso passa da sotto le nostre narici per poi estendersi nella parte esteriore del braccio fino ad arrivare al dito indice, ovviamente da entrambe le parti e nelle nostre gambe passa da dietro la vita per poi passare sulla parte più esterna di entrambe le gambe, dietro al malleolo e finire quindi sotto la pianta del piede. Va da sé che la tua pratica yoga per sollecitare questo meridiano dovrà avere tutta una serie di movimenti che vanno proprio ad aprire queste parti del corpo strettamente collegate con questo organo. Ti ricordo che l'intestino grasso o grande intestino è quella parte finale dell'intestino e di tutto il nostro apparato digerente e che si occupa di eliminare gli scarti, di lasciare andare e assorbire l'acqua che rimane da questi scarti. Non a caso la funzionalità primaria del meridiano è quello di lasciare andare ciò che non ci serve più, ciò che è stato consumato. Quindi durante la pratica cerca di entrare nelle posizioni proprio con questa attitudine di lasciarti andare nella posizione. La pratica che faremo infatti benché sia molto breve perché per questioni di video e di youtube terrò ogni posizione per pochi istanti in realtà è una pratica che si ispira allo yin yoga, quindi ti invito caldamente a praticarla una prima volta con me con i tempi che ti darò in questo video, in questa pratica, poi una volta imparata la sequenza potrai praticarla seguendo questo video ma stoppando il video ad ogni posizione e rimanendo almeno 3 minuti per ogni posizione che faremo perché ripeto questa è una pratica più specifica di yin yoga per lavorare su questo meridiano che invece ha un'energia più yang contrariamente nel mio precedente video dove abbiamo lavorato sul polmone che è un meridiano più yin abbiamo fatto una pratica più yang quindi un pochino più veloce e movimentata qui per controbilanciare faremo proprio l'opposto quindi sul meridiano di energia yang lavoreremo con una pratica yin bene, prima di cominciare assicurati di avere a portata di mano un blocchetto, un bolster che sarà fondamentale ti lascerò qui sotto in descrizione il link al bolster che utilizzo io in questo video in maniera tale che comunque tu possa vedere anche le misure e magari cercare in casa qualcosa che abbia le stesse identiche misure e una copertina fondamentale un tappetino comodo, minimo 5 mm anche per i tappetini ti lascio sotto nell'info box il link a tutti i tappetini che ho selezionato per te migliori che puoi trovare oggi in commercio e ovviamente copriti io sempre per questioni di video mi trovo in top con degli indumenti piuttosto stretti per farti vedere bene i movimenti ma tu puoi praticare tranquillamente in pigiama o in qualsiasi abito comodo e caldo che hai a disposizione questa pratica può essere fatta alla sera ma va benissimo anche al mattino è estremamente rilassante ma lavora tantissimo sul tuo sistema miofasciale quindi va allungare il tessuto connettivale e appunto della fascia come detto in precedenza essendo una pratica di yin yoga mi raccomando dovrai rimanere in ogni posizione per almeno 3 minuti ma una prima volta potrai praticarla con i tempi che ti darò all'interno di questo video per praticare al meglio ti consiglio comunque vivamente di seguirmi nelle mie classi live online sono ora aperte le iscrizioni per il prossimo mese o altrimenti se vuoi un programma ideale per questa stagione autunnale non esitare a seguirmi nel mio nuovo programma cioè yoga autum for you tuo a solo 15 euro e 50 quindi a meno di 50 centesimi al giorno per un intero mese bene cominciamo la nostra pratica allora per la prima posizione andiamo subito a recuperare il bolster e andiamo ad inserire il blocchetto alla terza altezza in mezzo al nostro bolster quasi a fare una sorta diciamo di un voltino ci alziamo in piedi verifichiamo che il nostro supporto in questa maniera sia stabile e tutto quello che dobbiamo fare qui è cominciare a rilassare la colonna soprattutto il tratto lombare osservare che i piedi siano alla distanza delle nostre anche cominciare a rilassare testa e spalle e se le gambe dovessero tirare le pieghiamo un attimino e poi le ridistendiamo ricordandoci che il nostro meridiano dell'intestino grasso passa proprio nella parte esterna delle nostre gambe quindi più le stendi in questa posizione e più riusciamo a far circolare bene l'energia, il prana dopo qualche istante se preferisci puoi poggiare direttamente gli amambracci sul tuo supporto e lasciare andare la testa verso il basso chiudi gli occhi e lasciati andare nella posizione chiudi gli occhi lascia che il tuo corpo scivoli verso il basso ancora due respiri anche se ripeto sarebbe più ragionevole rimanere in questa posizione per un minimo di tre minuti se è la prima volta che segui questa sequenza andrà bene anche il tempo che ti indicherò ora quindi pratica tranquillamente con i tempi indicati nella sequenza per la prima volta avrai comunque diversi benefici però più tempo rimaniamo e più ovviamente i benefici saranno profondi e intensi lentamente lentamente molto lentamente ispirandoci ritiriamo su lasciamo andare il nostro supporto ispirando ritorniamo un attimo su anche col busto ruotiamo indietro le spalle e prendiamoci qui qualche istante per far rifluire il sangue dalla testa verso i piedi tre respiri rilassa le spalle a questo punto dovresti sentirle anche un pochino più calde questo è l'effetto dell'inversione del microcircolo e poi lentamente cominciamo ad andare a sederci a terra al centro del nostro tappetino utilizzando una copertina ripiegata sotto i glutei quindi ci sediamo mettiamo da parte il blocchetto non ci servirà fondamentale però in questa posizione il nostro bolster quindi bolster o cuscino quello che avete l'importante è che abbia le grandezze simili a questo supporto che sto utilizzando io avviciniamo il cuscino il più possibile alla pancia e nella zona proprio delle anche deve essere proprio strettamente a contatto devo essere seduta comoda sulla mia copertina se sento il bisogno di avere un supporto ulteriore posso mettere anche un secondo cuscino magari un pochino più piatto sotto i glutei e con la mano destra vado ad afferrare la parte esterna sinistra del mio bolster e con la mano sinistra che passa sopra il mio braccio destro vado ad afferrare la parte opposta allora già qui potrei cominciare a sentire qualche sensazione cominciate a lasciare andare il busto in avanti e rilassate i piedi non ci sono allineamenti in questa pratica e il messaggio che devi dare al tuo corpo è proprio quello di lasciarsi andare nella posizione a questo punto prova osservare bene prima i gomiti che si siano ben superati e poi stacca le mani portando gli avambracci a contatto tra di loro se è possibile con le dita della mano destra vai a cercare il palmo della mano sinistra non ti avvicinare gli avambracci al naso mi raccomando ma lasciali lontano da te e qui ti lasci andare se per qualsiasi ragione questa presa non è possibile o ti tira troppo puoi afferrare con le mani le spalle opposte e ugualmente lasciarti andare 5 lunghi respiri qui chiudete gli occhi mi raccomando lasciatevi andare con tutto il peso in avanti lasciate che la colonna si arrotondi che la cervicale e le spalle si rilassino bene in questa pratica noi terremo ogni posizione 5 lunghi respiri ma ti ricordo che questa posizione è ancora più efficace se rimani qui almeno 3 minuti per uscire dalla posizione lo facciamo super lentissimamente sciogliendo le braccia ritornando su con il busto e prima di passare dall'altro lato mettiamo il bolster sotto le nostre ginocchia scivoliamo un pochino in avanti con i glutei e ci allunghiamo a terra per sentire proprio la colonna scaricarsi qui non c'è bisogno di stare tanto tempo vi rilassate un attimo 3 respiri il tempo di sentire proprio la colonna che si rilassa quindi potete mantenere eventualmente anche la copertina lì dove era rilasso il ventre rilasso tutti i miei organi interni probabilmente anche l'intestino crasso che nel piegamento in avanti viene un pochino contratto strizzato e poi in questa posizione può riallungarsi rilassarsi nuovamente per ritornare su posso scegliere se aiutarmi con le mani rigirandomi da un lato oppure avvicinare le cosce al petto dondolare un pochino dolcemente e poi tornare su bene andiamo dall'altro lato quindi nuovamente ci risiediamo sulla copertina allunghiamo le nostre gambe riprendiamo il nostro bolster mi raccomando rilassate le gambe quando le gambe sono rilassate le punte dei piedi cascano verso l'esterno andiamo a cambiare l'incrocio quindi se prima il braccio destro passava sopra adesso deve passare sotto quindi stessa modalità afferri con la mano destra l'estremità sinistra e con la mano sinistra l'estremità destra poi vedi se riesci a fare l'aggancio oppure afferri le mani opposte e quindi ti lasci andare fondamentale il concetto qui del lasciarsi andare impariamo proprio a lasciarci andare con il corpo nella postura per trasmettere alle nostre cellule alle cellule del nostro corpo a tutto il nostro essere il messaggio del lasciare andare l'autunno è proprio per eccellenza la stagione del lasciare andare il vecchio per fare spazio al nuovo e accogliere magari anche il cambiamento quindi tutte queste posture lavorano sul meridiano dell'intestino grasso magari miglioreranno anche il tuo transito intestinale anzi fammi sapere sotto nei commenti come andrà adottando questa pratica ma ti comunicano proprio questa idea del lasciarsi andare ancora quattro lunghi respire qui ti contrai la mandibola i muscoli del viso rilassa le spalle rimanendo molto più tempo nella postura vi rendete conto che a un certo punto proprio il vostro corpo cede e cade sempre di più in profondità per fare esperienza di vere classi di yoga io vi consiglio vivamente di seguirmi nelle mie classi live online mensili trovi il link per iscriverti qui sotto nell'info box e nelle schede o altrimenti per la stagione autunnale pratica insieme a me con il mio nuovo programma in cui ho fatto una serie di classi non troppo lunghe per permettervi di praticare sempre con costanza in un periodo continuato di almeno un mese ora lentamente lasciamo andare l'incrocio e piano piano ritorniamo su posizioniamo il bolster come prima sotto le nostre ginocchia slittiamo in avanti con i glutei muoviamoci mi raccomando lentamente e apriamo nuovamente il nostro corpo divertiamoci proprio a sentire le differenze tra la posizione di chiusura il piegamento in avanti e la posizione di rebound così si chiamano queste posizioni nello yeno yoga in cui non si rimane tanto ma si fa proprio una contropostura rispetto alla posizione precedente senti il sollievo che deriva da questa posizione di rebound bene puoi nuovamente decidere come riportarti su quindi avvicinare le cosce al petto fare magari dei cerchietti intorno al sacro se c'è un pochino di tensione che si è accumulata dovuto alla posizione precedente è del tutto normale e anche voluto e poi puoi decidere se rigirarti su di un lato oppure darti una piccola spintarella per andare su bene la prossima posizione è sempre una posizione di yeno yoga che ci permette di lavorare nella parte alta del meridiano ed è molto molto profonda quindi ti prego di fare attenzione adesso alle indicazioni che ti darò e alle tue sensazioni e a scegliere assolutamente la variante più adeguata per te prima di tutto prendiamo la nostra copertina la riapriamo e la mettiamo all'inizio del nostro tappetino perché ci serve proprio una parte un pochino più morbida quindi dall'inizio del tuo tappetino sistemi la copertina più o meno bene magari senza fare troppi troppe pieghe e sistemiamo il bolster il cuscino sul lato sinistro del nostro tappetino allora mi giro per farvi vedere la posizione del braccio allora andremo a portare il braccio destro o in questa maniera quindi dietro la schiena con il dorso della mano destra che arriva più o meno al punto vita sinistro ok assicurandoci che il gomito sia il più possibile vicino al fianco destro oppure se è possibile per te ma fate attenzione qui perché in tanti so che avete dei problemi alle spalle calcificazioni e quant'altro quindi a estrema attenzione porti il dorso della mano destra in mezzo alle scapole assicurandoti sempre lo vai proprio a toccare che il gomito destro sia più possibile vicino al lato del busto destro quindi scegli la tua variante o questa o questa una volta scelta la variante ci riportiamo seduti al centro del nostro tappetino e con estrema attenzione almeno la prima volta che lo farete andate giù aiutandovi anche con la mano sinistra l'idea è proprio di stendersi sul nostro braccio piegato dovete fare non sono mai abbastanza le raccomandazioni estrema attenzione e appena andate giù utilizzate un pochino i piedi cioè cercate di scaricare peso sui piedi così capite che se avete troppo peso sopra il vostro polso destro la mano destra potete calibrare ed eventualmente girare solo le gambe verso sinistra e poggiarle sul bolster oppure se non ci sono problemi stenderai le gambe tranquillamente verso il basso verso la fine del tappetino lasciando cadere le punte dei piedi verso l'esterno e porterai infine quando tutto sarà tranquillo il braccio sinistro oltre la testa mi raccomando non lo devi stendere questo braccio sinistro è rilassato e scarichi completamente tutto il peso del braccio sinistro a terra quindi spalla, gomito, polso scarichi tutto a terra cominciamo a rilassare i muscoli del viso la gola gli occhi se sentite tirare un pochino non è un problema ma se sentite dolore infinito è un problema non dovete mai arrivare a sentire la voglia di uscire dalla posizione quando sei a quel livello significa che hai superato il tuo giusto livello quindi probabilmente devi scegliere l'altra opzione o forse proprio questa posizione non va bene per te anche qui su un video di youtube non ti posso aiutare magari ti posso rispondere nei commenti se mi vuoi lasciare la tua esperienza il tuo feedback ma l'ideale per avere una pratica yoga che sia sana efficace ed efficiente per te è seguirmi nei miei corsi live online lì vi posso veramente vedere, consigliare oppure ancora seguirmi nel mio programma che trovi sul mio sito www.chayoga.it dove ci sono una serie di classi che sono sicura non hanno controindicazioni ancora due respiri e quando uscirai dalla posizione lo farai con estrema attenzione e cura quindi per prima cosa riporterai i piedi a terra e al centro piegando le gambe poi ti girerai un pochino sul fianco sinistro per liberare il braccio destro allungare anche il braccio sinistro lungo il fianco e riallungare le tue gambe senti l'estrema differenza tra braccio destro e braccio sinistro fatemelo sapere nei commenti sono iper sicura che sentirete la circolazione del braccio destro più attiva ora e questo è segnale che il meridiano dell'intestino grasso così come quello del polmone che comunque è legato e si incrocia con quello dell'intestino grasso nella parte superiore è attivato, è aperto stiamo facendo fluire l'energia bene ci prepariamo per andare dall'altro lato quindi pieghiamo prima le gambe spostiamo il cuscino dall'altro lato e per andare appunto dall'altro lato sarà sufficiente rigirarsi sul fianco destro scegliere con il braccio sinistro l'opzione che preferisci cercando di utilizzare la stessa opzione per entrambe le parti entrambe le parti del corpo se proprio non riusciamo possiamo scegliere per un lato l'opzione più facile se sentiamo più tensione anche perché abbiamo lati diversi però in teoria l'ideale sarebbe lavorare almeno in maniera simmetrica ti ricordo che il mento è sempre rientrato fai i tuoi controlli se senti che c'è troppo peso sul polso o qualche fastidio lascia andare le gambe verso sinistra e poggiale sul bolster altrimenti ritorni al centro allunghi le gambe e infine porti il braccio destro rilassato oltre la testa ti ricordo che spalla, gomito e polso destro devono rimanere a terra chiudi gli occhi e lasciati andare osserva se magari stai contraendo i glutei i glutei o qualche muscolo del tuo viso lascia andare osserva se stai contraendo l'addome oppure attivando l'interno coscia, le pelvi lascia andare osserva se stai contraendo la spalla sinistra la scapola sinistra lascia andare respira calmamente ancora per tre lunghi respiri anche qui una volta che avrete imparato la sequenza potrete rimanere per minimo tre minuti bene ci prepariamo ad uscire piegando le gambe portando i piedi a terra e al centro mi rigiro un pochino sul fianco destro libero il braccio sinistro riallungo entrambe le braccia lungo i fianchi riallungo le gambe shavasana ascoltando come fluisce l'energia ora nel mio braccio sinistro potrebbe accadere dopo questa posizione di sentire anche le narici narice destra e narice sinistra più libere, più aperte quindi ancora una volta abbiamo la riprova che lavorando sull'intestino grasso e sul suo meridiano lavoriamo comunque anche sul meridiano del polmone aprendo le nostre narici e respirando meglio bene, infine riporto i piedi a terra avvicino le cosce al petto di nuovo faccio qualche cerchietto intorno al sacro sia in un senso di rotazione che nell'altro e poi decido come risollevarmi su con il busto se girandomi da un lato aiutandomi con le mani oppure dandomi una piccola spinta e andando su allora ci tengo a terminare questa breve sessione con un'ultima posizione per la quale avrai bisogno del bolster e del tuo blocchetto allora per questa posizione andremo a sistemarci prima sul fianco sinistro con il bolster in mezzo alle nostre due gambe per bene in mezzo alle gambe quindi deve essere proprio in mezzo alle tibie in mezzo alle cosce in mezzo alle caviglie ok? poi andremo a rigirarci con il busto verso il lato corto del tappetino e andando giù cercheremo di piegare a 90 gradi il nostro braccio sinistro se non riesci a 90 gradi quindi con il gomito in linea con la spalla puoi stendere anche il braccio non è importante quindi andiamo giù stiamo sul fianco sinistro andiamo giù poggiamo il gomito sinistro a terra in linea con la spalla e poi andremo giù anche con la tempia sinistra infine questo è il passaggio che ho notato i miei allievi hanno avuto un pochino più di difficoltà andremo a portare il blocchetto alla terza altezza sotto la spalla destra allora questo blocchetto deve essere un pochino obliquo e incastrato tra il tappetino e la spalla e poi puoi riportare la mano destra a terra se hai posizionato bene questo blocchetto sotto la spalla la sensazione è molto piacevole e quando andrai a portare la mano destra a terra non c'è assolutamente peso qui ok senti proprio che la spalla è sostenuta dal blocchetto cerca di rilassarti nella posizione qui per motivi di video rimarremo pochissimo solo 5 respiri ma ripeto che in queste posizioni in una sessione ideale di yin yoga si rimane almeno 3 minuti quindi chiudi gli occhi ancora 4 lunghi respiri ed eventualmente se proprio non riuscite a sistemare il blocchetto sotto la spalla ma io vi consiglio di farlo perché è veramente ipercomodo potete andare a portare il dorso della mano destra dietro la schiena cercate di rilassare bene la parte bassa della vostra schiena quindi la parte lombosacrale e per ritornare su dalla posizione lo farai iperlentissimamente considerate che quando ci rimanete almeno 3 minuti ovviamente sentirete il petto più aperto la spalla sinistra più aperta ma probabilmente anche addormentati quindi è fondamentale spingere con la mano destra aiutarsi un pochino e tornare su bene passiamo dal centro prima di andare dall'altro lato possiamo portarci anche con noi il bolster in mezzo alle gambe rivolgiamo le dita delle mani verso l'inizio del tappetino ispirando apro un pochino il petto se non ho problemi alla cervicale vado indietro con la testa e poi ispirando ritorno e stiamo pronti per andare dall'altro lato quindi prendiamo con noi il blocchetto mi metto sul fianco destro sposto le mani parallele al lato corto del tappetino e vado giù portando il braccio destro a 90 gradi in linea con la spalla quindi il gomito destro in linea con la spalla ripeto se sento troppa tensione posso anche allungare il braccio decidete voi porto la tempia destra a terra e qui le famose due opzioni o vado con il dorso della mano sinistra dietro la mia schiena oppure vado a sistemare il blocchetto proprio il più possibile sotto la nostra spalla sinistra e sto qui almeno 5 respiri lentamente quando decideremo di uscire dalla posizione proviamo a spingere di più con la mano sinistra e poi ci riportiamo su ovviamente ripeto in una pratica di yin yoga classico si rimane in entrambe le posizioni minimo 3 minuti allora l'ultima posizione per concludere questa pratica è uno shavasana fatto in questa maniera che ti mostrerò immediatamente adesso che serve proprio per risentire l'apertura del meridiano dell'intestino grasso ma inevitabilmente anche del meridiano del polmone che abbiamo lavorato perché questi due meridiani si intrecciano un pochino quindi ti consiglio vivamente di alternare sia il video del meridiano del polmone con questo video del meridiano dell'intestino grasso e poi di terminare entrambe con questo tipo di shavasana ci avviciniamo anche la copertina fondamentale andremo a stenderci con le scapole sopra il nostro bolster e ci assicuriamo che le braccia siano al di là del bolster in linea con le spalle la zona occipitale la poggio sul blocchetto alla prima altezza ok e devo sentire quindi leggermente le spalle che colano verso il basso ma non sono a contatto con la terra il petto quindi zona dei polmoni viene aperta con le braccia scaricate e lasciate andare verso il tappetino verso la terra e la zona dell'intestino grasso quindi tutta la parte della pancia da sotto il costato in giù verso il basso che si rilassa qui per quanto riguarda le gambe puoi decidere diverse opzioni o andare con le piante dei piedi a contatto in subtabba da konasana oppure allungare le tue gambe qualsiasi opzione sceglierai va bene se la tua sensazione è proprio quella di sentire un rilassamento qui nella parte che va ripeto da sotto il costato in poi inoltre per accentuare questo rilassamento puoi portare una copertina ripiegata più volte sul tuo ventre oppure coprirti totalmente chiudi gli occhi e senti ora l'energia di questi due meridiani polmoni intestino grasso circolare fluidamente in tutto il tuo corpo mi raccomando durante la stagione autunnale cerca di aiutare il tuo intestino grasso anche con un'alimentazione adeguata magari introducendo la buona abitudine delle tisane calde dopo pasto oppure dei pasti un pochino più brodosi nel mio programma c'è yoga autum for you troverai anche delle ricette ayurveda che proprio possono aiutarti ad introdurre queste buone abitudini che servono proprio per liberare aiutare le funzionalità del tuo intestino grasso questo organo così importante che ci ricorda l'importanza di lasciare andare ciò che è stato consumato ciò che è stato utilizzato per incamerare poi il nuovo prana nuova energia attraverso invece un altro organo fondamentale che sono i nostri polmoni quindi osserva come questi due meridiani che sono un pochino più sollecitati in autunno sono in realtà strettamente connessi più riesci a liberare a lasciare andare l'intestino grasso più riesci attraverso i polmoni ad incamerare nuova energia nuovo prana bene puoi restare qui tutto il tempo che vorrai altrimenti per uscire fuori dalla posizione porterai prima i piedi a terra alla distanza del tuo tappetino farai cadere le ginocchia l'una contro l'altra per qualche istante e poi lentamente ti rigirerai su di un lato quello che preferisci ti aiuterai con le mani e tornerai su a sederti a gambe incrociate bene questa era la nostra pratica ispirata allo yin yoga studiata per aprire e far fluire l'energia nel meridiano dell'intestino grasso nella stagione autunnale è fortemente consigliato lavorare su questi due meridiani quindi mi raccomando alterna il mio precedente video del meridiano del polmone con questo video sul meridiano dell'intestino grasso ma soprattutto durante tutta la stagione autunnale assicurati che il tuo yoga sia rispettoso delle energie di questa stagione per farlo puoi seguirmi nel mio nuovo programma c'è yoga autunno for you dove trovi le mantra le mudra la meditazione le ricette oltre che ovviamente agli asana e alle pratiche più adeguate per questa stagione se invece non vuoi rinunciare ad essere visto corretto da me nelle varie posizioni non esitare a iscriverti ai miei corsi live online sono due corsi un corso la mattina presto presto e uno la sera troverai tutte le informazioni nei link sotto nell'info box e nelle schede e nel primo commento pinnato a questo video e sono aperte ora alle iscrizioni per il mese di novembre quindi ti aspetto nelle mie classi per continuare a praticare insieme grazie per avermi seguito in questa classe e namaste